Buongiorno, cerchiamo di liquidare velocemente la questione della cittadinanza di Rami e dei Adam, gli altri cosiddetti eroi del Pullman che era stato dirottato da un senegalese, insomma gli altri erano già italiani e non hanno avuto nessuna eco sui giornali, anche se oggi mi sembra che il Corriere della Sera citi anche tutti gli altri bambini che si sono dati da fare, si sono dati ostaggio, insomma hanno cercato di far sì che si potesse risolvere quella situazione che rischiava di essere un vero casino. Buongiorno Bibiana, oggi ha ricevuto la cittadinanza italiana dal Ministro di Interni Salvini e Di Maio, secondo tutti quanti i retroscena dei giornali, ha fatto trapelare sui giornali che sarebbe stato lui a convincere Salvini a concedere senza esitazioni la cittadinanza. La cosa più divertente di oggi invece è, buongiorno a Giorgio, buongiorno a Paolo che vi siete appena collegati, la cosa più divertente di oggi è gli accordi italo-cinesi rispetto a quelli franco-cinesi. Come sapete Macron aveva detto e aveva fatto un sacco di critiche all'idea che l'Italia potesse fare un accordo con la Cina e che rompesse l'unità europea. Io vi chiedo e mi chiedo, i francesi hanno fatto accordi non da 2,5 miliardi con i cinesi, ma hanno stretto accordi per 30 miliardi, gli hanno pizzato 300 Airbus, è vero che sono un consorzio franco-tedesco, ma certo non riguarda l'Italia. La loro società pubblica di energia elettrica, EDF, che è molto più pubblica di quanto sia la nostra Enel, perché la Enel è stata privatizzata, mentre la loro col cavolo che l'hanno privatizzata, bene, la loro EDF farà un impianto eolico in Cina per 1 miliardo di euro. Hanno fatto accordi per 30 miliardi e ci stanno qua a rompere le balle a noi che facevamo degli accordi e aprivamo i porti dell'Italia alla Cina. Il punto fondamentale è un altro, che i francesi quando fanno i loro accordi se ne fottono di tutti gli altri e fanno forse bene o forse male, ma che ci facciano il predicozzo sul noi che gli regaliamo, come dice Roberta, una cassetta d'arancia, perché avremo la possibilità di disportare le nostre arance dall'Italia alla Sicilia, beh, viene veramente da ridere, purtroppo forse ancora di più da piangere. Ma la cosa più bella è oggi come tratta questa vicenda Repubblica. Repubblica ha un taglio legittimo, antigovernativo, ciao Raffaele, ciao Alessandra che vi siete appena collegati, e Bonanni su Repubblica, il super europeista, perché poi gli europeisti non si rendono conto di essere ormai veramente... Bonanni dice, abbiamo sottoscritto un patto vassallo, mentre Francia e Cina pretendono reciprocità, loro fanno accordi senza inginocchiarsi, questo è la Francia che non fa cun accordo senza inginocchiarsi con la Cina, mentre noi facciamo i patti vassalli. Giri dieci pagine e leggi Michele Serra, che non sarà esattamente come un grande metra pensere dell'europeismo, ma certo non può essere definito un pericoloso sovranista che dice, io non riesco a capire perché abbiamo fatto tante polemiche con il patto fatto con gli italiani, quando quelli vanno in Francia e gli hanno aperto l'ediseo, gli hanno portati al teatro dell'opera, hanno fatto esattamente le stesse cose che si capisce, erano soltanto in funzione loro e per portare a casa 30 miliardi di contratti che sono dieci volte i contratti che abbiamo portati noi. Nello, buongiorno. Insomma, state attenti, il punto fondamentale, mettiamoci pure d'accordo che l'Europa si metta d'accordo per essere forte nei confronti della Cina, ma come scrive bene Danilo Taino nel suo libro sulla rivoluzione asiatica, Duisburg, il porto all'interno della Germania, più importante dell'arrivo delle merci dalla Cina, l'hanno fatto i tedeschi, non è Trieste, non è Genova. Gli accordi per vendere gli aerei li fanno i franco-tedeschi, il patto di acquisgrana l'hanno fatto i tedeschi con i francesi e noi non possiamo neanche vendergli due tubi della Snam in Cina perché il nostro, come dice Bonanni, è il patto vassallo. Ma va, ma va. Vabbè, riforma del copyright, è inspiegabile la posizione di questo governo giallo-verde che in Europa ha votato contro, ha votato con i socialdemocratici tedeschi contro la direttiva sul copyright. Vedete, su questa direttiva sono state riscrite un sacco di minchiate. Io che mi occupo di contenuti e che li metto sulla rete, come sto facendo ora, ora sto regalando a Facebook il mio contenuto e Facebook, grazie al mio contenuto, e grazie a voi che lo ascoltate, venderà pubblicità. A me va benissimo, è un patto chiaro. Ma il punto fondamentale è che non si può pensare che il mio contenuto e i vostri contenuti siano tutti liberi da ogni tipo di diritto e di copyright. Io non posso prendere i contenuti di Porro, non posso prendere i contenuti di Rita, di Miraldo, di Francoise e utilizzarli come fanno le piattaforme gratuitamente e poi farci soldi. Diverso quello che farà Wikipedia. Wikipedia prende i contenuti di tutti e non ci fa soldi perché è senza fine di lucro. Quindi Wikipedia, nonostante la retorica di queste ore, non avrà nessun problema da questa direttiva sul copyright. Quello che succederà è che Google, Facebook, YouTube, che peraltro già un po' lo fanno, dovranno però pagare per i diritti d'autore. È una roba, mi sembra, normale, chiara. Il giornale non può pubblicare un pezzo di, addirittura di Montanelli, perché la famiglia Montanelli non ci ha dato i diritti d'autore. La stessa cosa Mediaset non può pubblicare un pezzo della 7 o della Rai senza pagarla. Mentre invece Google, Facebook e secondo loro Leghisti e Grillini potrebbero fare quello che cavolo gli pare. Veramente questo vogliamo? Veramente vogliamo questo? Io direi che mi sembra una follia. E per fortuna che in Europa hanno votato contro questa follia. E soprattutto oggi da leggere forse Daniele Manca, che è quello che spiega meglio questa vicenda con il Corriere della Sera sulla direttiva. Da questo mese, da primo mese, riuniscono dell'8,5% luce, del 9,9% gas. Repubblica ci fa l'apertura, come ormai fa con Verdelli, queste aperture un po' così di Repubblica. E dice la bolletta elettorale. Allora, la bolletta non è elettorale, lo decide l'Agenzia per l'Energia, perché l'inverno è stato mite. Ma il punto fondamentale è che poi comunque la riduzione dei prezzi di luce e gas è solo sulla componente materie prime. Quindi ve ne accorgerete per circa la metà. Tutto il resto sono tasse, onerim propri, fotovoltaico, che sono la nostra bolletta. Il resto avrà una piccola diminuzione del 9%, dell'8%. Quindi il 9%, 8% non su tutta la vostra bolletta, ma sul metà della vostra bolletta ci saranno queste riduzioni. Quindi in realtà è la metà la riduzione dei costi per i cittadini. Spero che mi abbiate seguito. Ma il punto fondamentale è che Repubblica dice che questa è una ora elettorale perché Di Maio se ne vanta. C'è poco di vantarsene, questo c'è ragione Repubblica, perché dice in realtà su base annuale, perché ogni tre mesi si cambiano le tariffe, in realtà non si è diminuito il prezzo di luce e gas, anzi è aumentato. Ma il punto sostanziale è che questi veramente non ne possono fare una. Cioè se si diminuiscono le bollette è una manovra elettorale, se aumentano sono delle pippe e quindi sono stati zitti e muti. Insomma non esageriamo. La cosa più incredibile è il commento di oggi di Francesco Merlo su Battisti. Uno dice non parlarne più, fazzate zitti, insomma avete fatto casino, tu Francesco che hai vissuto per tanti anni a Parigi e che li hai conosciuti tutti questi cazzo di intellettuali, alla Bernard Henry Lévy, a questi, come si chiama, a Pennac, a questi fenomeni, alla Vargas che dicevano che aveva subito una tortura e non era giusto il processo di Battisti, che ha ammesso di aver ammazzato quattro persone, cazzo, quattro persone. E ancora stiamo discutendo e oggi Merlo cosa dice? Le tribù giornalistiche della destra, allenate dalla macchina del fango, attribuiscono alla sinistra una complicità ideologica. Sì Merlo, sì, esattamente questo. E mi chiedo e vi chiedo come non si possa vedere che una parte della sinistra ha avuto una complicità ideologica. Toc toc Merlo, ieri sai che cosa ha detto Vargas, sai che cosa ha detto lo stesso Battisti? Basta leggere il tuo amico del fatto, basta leggere gli altri giornali, leggili i giornali invece di avere questo pregiudizio. Dice io sono rimasto libero per 36 anni, sapete perché? Perché avevo delle complicità con alcuni ambienti politici e sindacali. Toc toc, secondo te erano quelli della destra? Toc toc, secondo te erano quelli del giornale? Toc toc, erano quelli di Libro e della Verità? Toc toc, non erano i tuoi amici Merlo? Non erano i tuoi Levi, quelli con cui vai a cena, quelli con cui scrivete bene? Non erano la Vargas? Siamo noi della destra della macchina del fango? Che pensiamo che l'avete difeso voi per 30 anni, questo delinquente assassino di merda che si chiama Battisti? Siamo noi o siete voi? Ricordati come ha ammazzato quelle persone Battisti, ricordati che ha sparato alle spalle, ricordati la giustizia che ha fatto nei confronti di un gioieliere che non aveva commesso nulla, se non quello di essere un gioieliere e rappresentare la borghesia, secondo lui, capitalistica di quell'epoca. Ecco, insomma, quando io leggo il pezzo di Merlo di oggi capisco perché Merlo e il suo direttore Verdelli oggi a Repubblica non abbiano mosso un ditino quando pagati dai contribuenti lavoravano in Rai e Renzi mi fece fuori. Bonino oggi è straordinaria perché, fermi tutti, ha risolto i problemi del paese. Perché Blabonino, nata radicali, le grandi battaglie, che piacciono o non piacciono, che odio o che non odio del partito radicale, ci spiega come più Europa avrà successo in Europa? Ma sapete con chi si è alleata? Con Pizzarotti! Cioè quello che non si riusciva a alleare neanche con se stesso, quello che è uscito in fuoriscito di Parma, del Movimento 5 Stelle, quello che diceva che non si doveva fare il termorizzatore e poi l'ha fatto, quello che ha la personalità di un sindaco di Parma. Bene, il futuro dei radicali è Bonino Pizzarotti. La tristezza, io non è che ce l'ho con l'abbonino, ma la tristezza di quello che è l'eredità radicale finita su Pizzarotti. Sugli stupri ci sono due temi. Il primo, ragazzi, parliamoci chiaro, è vero quando dicono che tre ragazzi di Catania tra i 19 e i 20 anni hanno stuprato una ragazza americana portandole e caricandola in macchina mentre stavano prendendo un aperitivo davanti al Teatro Massimo, è una cosa disgustosa, non ha senso, è allucinante la violenza del branco che deve essere punita. Dall'altra, Travaglio oggi ci ricorda la violenza tentata e non riuscita di un clandestino che ha provato a Torino per l'ennesima volta a violentare una persona minacciando il marito con una bottiglia alla giugolare. La differenza tra questi due stupri, per non fare la macchina del fango della destra, come direbbero i merlo, questi intellettuali, i fini intellettuali che difendono soltanto Battisti, beh, insomma, questa macchina del fango della destra cosa dice? La differenza, sapete qual è? Che i tre ragazzi catanesi che hanno provato in maniera disgustosa a violentare quella donna devono marcire in carcere pagando le conseguenze del loro stupro, chiaro? Il punto è che il tentativo di stupro fatto dal guineano segue altre tre operazioni criminali, un altro tentativo di stupro e non è mai stato in galera. Cioè il punto fondamentale non è razzismo o non razzismo, è certezza della pena. E spesso, purtroppo, gli immigrati non hanno in Italia una certezza della pena, vale anche per gli italiani, e questo è quello che fa arrabbiare la macchina del fango della destra, non è il colore della pelle, è la certezza della pena. Provi a fare uno stupro? Non puoi riprovarci una seconda volta, devi stare in galera. Provi a fare una rapina? Non devi neanche stare in galera, ti rimandiamo al tuo paese. Non è una cosa complicata, non è una macchina del fango, è una semplicemente applicazione del buonsenso. Sulle questioni di Battisti vi segnalo sul mio sito un pezzo molto bello che mi regala Edoardo Lovent, un manager che mi spiega quanto c'è di simile nell'odio nei confronti di Israele con l'odio che non c'è stato nei confronti di Battisti, gli intellettuali che ne sanno sempre una più del diavolo. Io direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it Un abbraccio a tutti quanti voi che mi avete seguito fino ad ora. Ciao!